Palazzo dei Rettori non dovrà firmare alcun documento per la nomina di commissari. Sospirolo, Canale d'Agordo, Cencenighe e Pieve di Cadore hanno i loro sindaci che hanno sconfitto lo spauracchio del mancato quorum, fissato al 40% e depurato degli aere. A Sospirolo Mario De Bon torna in municipio, ha votato quasi il 57% degli elettori. L'aria che si respirava era buona. Me ne sono reso conto dalle prime riunioni dove all'inizio la partecipazione era scarna, poi la gente ha toccato con mano quello che poteva essere il problema, ha perso Spirolo, c'è il commissariamento e poi credo che nei numeri ci abbia dato anche fiducia. Quindi via per altri 5 anni, ma credo che ci siano dei bravi collaboratori con cui si potrà fare un bel po' di strada. Canale d'Agordo raggiunge l'affluenza più alta, oltre il 62%. Non avevo dubbi, nel senso che nelle riunioni che avevamo fatto pre-elezioni avevo visto che la gente era consapevole di tutto il lavoro che è stato fatto nei 5 anni precedenti con tutte le difficoltà del periodo e quindi nel segno della continuità sono contento della risposta che ha dato la gente di Canale. A Censenighe la riconferma di Mauro Soppelsa con il 57,5%. Questo ci gratifica, ringraziamo gli elettori che si sono recati alle urne, ci gratifica, dicevo, del lavoro che abbiamo svolto già nei 5 anni passati e che rinnoviamo come impegno per i prossimi 5 anni. fa un po' pensare ovviamente questa relativa bassa affluenza alle urne da fronte di persone, sto parlando soprattutto dei consiglieri che si impegnano e cercano di fare qualcosa per il proprio paese, ci sia questa pigrizia anche di andare a esercitare diritto di voto. Pieve di Cadore ha la sindaca più giovane della tornata elettorale, ovvero Sindy Manusci, classe 1992. Nel paese di Tiziano l'affluenza è stata del 48%. La prima impressione è grande stupore e grande gioia, chiaramente. Non ce l'aspettavamo davvero una partecipazione così ampia, anche nella giornata di oggi, in cui appunto è lunedì e pensavamo che molte persone si recassero al lavoro. Invece la partecipazione è stata davvero grande ed è più vicina al 50% anziché al 40%. Non è proprio ridicata e per cui noi siamo davvero quasi storditi dalla gioia e da questa accoglienza di Pieve e per come Pieve ha reagito alla nostra lista e alla nostra proposta.